Jin, di qua. Potremmo prendere la strada che Daomi sale verso Forte Camino d'Ake. Peccato sia controllata dai Mongoli. Ti servirà aiuto per cacciarli via. Conosco dei cacciatori accampati sul Monte Sago. Il capo si chiama Takeshi. È un tuo amico? No, ma mi darà ascolto e i suoi uomini sono ottimi arcieri. Mentre li raggiungi, io passerò dal castello di tuo zio. Incontra i nostri amici Aomi. Guida lì e attacca il Forte da Sud. Io colpirò da Norda coi tuoi amici cacciatori. Pensi che funzionerà? Sì. Sta' attenta, Yuna. Anche tu. Erano quattro guerrieri. Quattro. Réalise. Ho! Amicurata. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti